Musica Primo contratto da fixer ragazzi Fuga si chiama E lo andremo a fare adesso Fuori Ora io non so come si svolge questa cosa Dei contratti da fixer Devo un po' studiarmela Non so se fare un video unico o fare i separati Il problema è che sono tipo 20 contratti E veramente mi attaccherebbero troppo la La storia raga Cioè Vedo se fare tutti insieme oppure no Devo valutare un po' Comunque Primo contratto da fixer Devo trovare un'auto abbandonata La staranno cercando anche i poliziotti Vedete mezzo al cazzo questi Sarei per vicoli e scorciatuglie Ok 20 metri Ho preso la macchina per nulla Pronti a 2450 sbirri Vai Però poi mi dovete lasciare la macchina Esigo la macchina dopo Raggiungi il punto senza farti individuare Ma dovevo ancora scappare Fate voi Ok beh Scappare risulto scappato Quello sì però Dobbiamo ancora Ancora arrivare a destinazione Ho ottenuto un'abilità Che poi andremo a A verificare Però ripeto Prima arriviamo Dove dobbiamo arrivare Ecco magari tagliare Non sarebbe male Dato che mi stanno Quasi per pre Quasi Qua Quasi per pendere Quasi per pendere To 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 3000 dollari di compensa Sti gran cazzi Sti gran cazzi De 3000 dollari ragazzi Va bene Sono 40 contratti da fixer Sono parecchie Albero dell'abilità Due punti Ridurre i danni subiti dalle collisioni Subito Ragazzi Andiamo col contratto da fixer Dopo un po' Mancavano eh Non mancava il contatto La fixer Signori Vediamo cos'hanno da dirci Così Cazzo duro Bene Devo trovare un'auto Rubata E raggiungere un punto di consegna Evitando gli sberri Andiamo a rubare il becolino Tipo adesso ci inseguiranno Perché L'ho rubato dalla base Della polizia Tre stelle appunto Non mi far chiudere il ponte Dai Ma sono ancora dentro il cerchio No Chiedo per un amico Il punto di consegna È piuttosto stronzo eh Eh civile ferito Che ci posso fa? Che cazzo è sto punto di consegna Ma vaffanculo Civile ferito sti cazzi Ah 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 Trovato Fatto Punta vita attenuto Solo una cosa si può potenziare Quattro punti Cazzo Minchia che blackout posso care con questo Fotonico Due di quaranta contatti da fixer Cazzo E ragazzi Contratto da fixer Contratto da fixer Assolutamente sì Vediamo Cosa ci chiedono di fare Proprio nell'estremità Su destra della mappa Tamponato uno C'è un veicolo rubato Da recuperare e consegnare Ma i poliziotti Ah ok GTA questa missione Tipo è l'ordine del giorno C'è una moto qua? O mi sbaglio io? Ah ok Ma il veicolo è vicinissimo Buona Bene quindi posso prenderlo senza vergogna Vero? Certo Quante stelle mi dai? Dai si clemente Su Tre sti cazzi Che perdono già tutti qui Spaule dal nulla proprio Cazzo che botta Intanto Ah mi sono neutralizzato da solo? No Ho neutralizzato loro Meglio così Qua c'è un posto di blocco E lì ci metto Il dissuasore Così mi segue solo l'elicottero Ma col cazzo Accosto tua madre Accosto Intanto il ponte E' buona Così non attraversi La galleria dov'è? Lontanissime le gallerie ragazzi Punto peggiore per fare un contratto da fixere Una volante potenziata E all'inseguimento del sospetto Ah pure potenziata Grazie Ok sto lasciando l'elicottero per ora Ma non so quello che succederà Poi noi il ponte intanto Lo solleviamo per sicurezza La macchina sta fumando E questo non è buon segno Ma noi Teniamo duro Ok Ma se può mettere il segnalino? Chiedo Dai fatemi fuggire Ok vedo l'estremità del cerchio Se la raggiungo sono fuori E' matematico E' matematico E' matematicissimo signori E ma non mi hanno ancora Controlleremo a nord della vostra posizione E' controllare tu ma? Devi controllare Io sono fuori Dall'area di ricerca Dai su Su Forza 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 E' bello che ancora ci speri No? Controlliamo a sud della vostra posizione Dove usci là? Ma hanno cambiato destinazione Bastardi Non è che così Intercetto l'elicottero Vero? Te merde Se mi riscopre Mi riscopre per forza Forza E' nascosto nel parcheggio Tenete gli occhi aperti Vai vai al parcheggio Vai al parcheggio Andiamo a nasconderci Te ne vai? Ma dove cavolo si nasconde? Qualcuno lo vede? Se ne va Merda Abbiamo ritrovato il sospetto Noi seguiamo Beh lo sapevo Lo sapevo C'è 40 missioni così ragazzi Ma io Mi volete vedere Morto proprio Ferma il veicolo E poi c'è Se tu mi avessi lasciato La La destinazione Dove era prima Tutto sarebbe stato più semplice Ma si fa a rimettere in piedi una macchina? Ma che non capiscono perché mi ha cambiato la destinazione Abbiamo sottotiro Dobbiamo farlo fuori Lo colpisco di lato Attenzione Ferma il veicolo E arrenditi Ponte Di qui Cazzo Sbanda un botto Quando è rotta la macchina Avevo fatto Tutto e tutto bene Il sospetto è sparito Lo abbiamo perso Forse ha mollato la sua auto Mi raccomando adesso Tra le abbiamo perso il sospetto Lo cerchiamo No 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 Negative 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 Ok Mo dovrei farcela forse Il problema è l'elicottero Non è tanto le volanti O cose varie Quando chiudiamo i ponti Non si sa mai E poi rimasto l'elicottero Basta che tutto Tiene la larga da lui È buona Eh 450 metri Mi devi volere bene Eh Forse è nascosto nel parcheggio Andiamo a vedere Vai a vedere il parcheggio Che io mi metto vi Noo Sono i panettoni di cemento Ok Contratto da fixer andato ragazzi 948 Adama centrale Rientriamo 250 XP Denaro 4000 Beh buttalo via Contratto da fixer E vamos signori Antoccheriamo lui Un nuovo veicolo disponibile Buono così Altro contratto Devo portare un'auto Da un punto all'altro Senza danneggiarla No No Ci saranno problemi No Voglio la pulizia Mi manca già Guarda Sarà tipo 90 km da fare adesso Perché tanto lo so Io mi aspetto già tipo Qualcosa come Impossessati del veicolo E non danneggiarlo Oddio però una moto Minchia Minuto a 14 1300 metri Come cazzo faccio Tanto mi devi da Il GPS Poi senza danni Mi tocca fare il giro Largo Ora va Preso sto drittone A massima velocità Scongiurando rischi Aaaaaah Ok ci si dovrebbe fare Tranquillamente Prossimo veicolo Un minuto e quindici Fra tu sei matto Tu sei matto Ma me lo ravi il tempo poi quando Lo prendo vero Raga non va bene Sta cosa però Non va bene perché io mi ci ero fermato Ragazzi Mi ci ero fermato Lo giuro Bello Bellissimo 200 metri e 40 secondi Menomale ho detto non danneggiarlo 700 metri e 30 secondi Ragazzi è follia Però volendo forse 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 Un altro veicolo Nooo Un minuto e cinque Matto Matto sei Qua c'è da correre assolutamente Se magari mi dicessi Dove devo portarla prima Oddio forse è più fattibile Sapete qua 900 metri e 40 secondi Sono sempre tanti Però Dobbiamo provarci Però secondo me Metterti il tempo Mentre vai a piedi È veramente una bastardata Perché tu Perdi un botto di secondi Andando a piedi E ripeto Devi andare per forza a piedi Forse ci si dovrebbe fare Dai Sì Con ampio vantaggio Esplorazione urbana 4.000 dollarini Vuol dire che tutti i contatti Sono 80.000 dollari Non male Che c'è qua vicino Non si sa ancora Allora C'è un altro contratto qua Quindi si va a fare Prossimo contrattino Che è da fixer E non di assassino Che ci fa anche rima Però prima Bancomat Si può? Non si può Ok Contatto da fixer Devo distrarre la polizia E farmi inseguire Mentre i miei clienti Si occupano dell'affare No Mi trovo spesso a scappare E poi do Ovviamente dovrò liberarmi Della polizia dopo Perché tanto lo so Che poi Dovrà succedere così E nel frattempo Farmi anche inseguire Sfreccia tra le destinazioni Per attirare la polizia Vabbè assurdo Ma non il distrosore Il cancello Grazie Ok Abbiamo Dei secondi Per sfrecciare E farci inseguire Della polizia Cioè Con tutte le volte Che sfreccia Allora dovrei essere Ricercato 24 ore Sono 24 Comunque ok Il tempo si allunga Ogni Checkpoint Che prendiamo Sono 24 checkpoint C'è un'infinità Raga E poi sicuramente Saremo inseguiti Alla fine Ok Già più affrontabile Qui Qualche secondo L'avevim Ho recuperato 8 su 24 Capirete voi Tanto per i bro Si fa tutto Tenere di strada Pure la polizia Per loro Tutto E anche di più E adesso La scansione Andrà A buon fine Ovviamente Allora prima o poi Dovrà succedere Siamo a metà Checkpoint Ma d'affanculo Il palo del cazzo Meno male Ho messo la parte Dei secondi Però devi muoverti E rialzarti Dobbiamo fermarlo È vero che Una cosa così Sarebbe morto Però è un gioco Ti devi rialzare Ne mancano 8 Dopo questo Devo anche scappare Ovviamente Prova ad andargli addosso Occhio Prova ad andargli addosso È buona Suga Non mi far uscire dal cerchio Mi raccomando Tranquillo proprio È una perdita di tempo Se ne è andato Torniamo indietro Ah però smettono subito Eh di inseguirti Quando si tratta Delle missioni Che bastardi Una volta che esci dal cerchio Proprio Allora è finita 23 E 24 Quello finale Abbondanti secondi Per riuscirci Bella la rampa Contratto bellissimo Questo ragazzi Non vedo ora Che si ripresenti Una cosa così Altri 4.000 In saccoccio Punto abilità E tutto quanto Altro contrattino Allora Vediamo È qui Ancora con la moto Del contratto Di prima Questo lavoro Attirerà molta attenzione Devo prendere una macchina Da un autosalone E portarla ai clienti Evitando la polizia Perché tanto ormai si sa Subito così Bona Boom Qua dentro si può scappare Sì E vi vo nel culo così Proprio a tradimento Guarda Non mi avrete mai Non mi avrete mai Cioè in realtà Mi avrete Perché tanto Prima o poi Mi beccate Eh ma mi ritrovate Subito Sapevo io Non avevo via di scampo Lì Aveva già che giravo Sto stronzo Bello Godo Eh ma è che è finita l'isola Dove vado Sto punto però è vicinissimo Non Non Trovatemi No Ce ne hanno laggiù La volante potenziata è stata inviata verso il sospetto Che si fotta la volante potenziata E non ci sto ai vostri giochetti Del cazzo E devo comunque raggiungere il mio obiettivo E ci riuscirò Centrale il sospetto è sparito Spettiamo e torniamo indietro Godo Stronz CTO S autorizzata Avvio ricerca del sospetto Ah anche le scansioni adesso sti stronzi Tanto mi troverete sicuro 85% Vaffanculo Contro della scansione di TTO S Sospetto individuato Non si fermerà se non facciamo qualcosa Adesso Volevate farlo Ci siete riusciti Era quello il punto Era vicinissimo ragazzi Non so dove mi trovo Zero proprio raga Zero Doppio Triplo quadruplo zero Io che c'ero anche arrivato raga C'ero anche arrivato Infatti io sono lì panettoni E chiudi la porta E chiudi la porta E chiudi la porta Andiamo così Centrale l'abbiamo perso Sbettiamo 5000 si sale di ricompense E godo Contrattino Che bello che si possa buttare giù tutto Bellissimo Prova a tempo anche qui Eh la sparatoria allo stadio di baseball Cioè dove te la metti Dice che è stato rubato Devo individuare chi l'ha preso Scaricare le informazioni E occuparmi del ladro Prova molto easy dai Segui il bersaglio per rubare dati Che è buono Dov'è sto coglionazzo Ok lui Ricopertati Minchia quanto è lento raga E rigirati Rigirati Non è che lo posso Tipo neutralizzare E mettergli dissuasori Così magari Lo scansiono meglio Vero Guarda che stronzo Per fortuna c'è una macchina che corre Se no Cioè Mi immaginate con Tipo il furgoncino Il camioncino Un disastro sarebbe Comunque siamo a metà Adesso Non riesce a buttarlo fuori strada Oh nemici all'inseguimento Fantastico Fantastico Bellissimo Tra l'altro non è polizia Ma sono proprio I suoi amichetti Proprio i suoi pappa e ciccia Ma qualcuno Che possa essere Neutralizzato No eh Ok siamo al 100% Neutralizza il bersaglio Sarà fatto Adesso lo colpisco Ora lo butto fuori strada No perché non posso sparare dal veicolo Che palle Prima o poi ti prendo Vedrai Bello Ammazzato il suo amico Bellissimo Bravissimo Grazie E fatti neutralizzare Vieni qui Che non ti faccio nulla Vieni vi Eh si mi è passato Che io ho neutralizzato Così lui Bene Piala così Missione completed Oh 2000 Buono così Buono così Adesso gli vado addosso Cosa è esploso? Io non ho capito Ma qualcuno si è fermato Andate avanti Io trovo un altro mezzo Adesso mi tocca scappare Da sti stronzi Pensate fosse facile La vita qui eh Adesso lo colpisco Ah ah Godo Minaccia eliminata A posto Oggi vi raccontiamo La vita di Giove Nuovo contratto da Fixer Signori L'ottavo Esattamente Che chiuderà La prima serie Di 5 video Sui contratti di Fixer Da Fixer Pardon Il mio bersaglio Si è fatto dei nemici potenti Quindi si muoverà sicuramente In fretta Devo trovarlo E farlo fuori Che per il gioco Far fuori vuol dire Atterrare Comunque ok Neutralizza il bersaglio Questa non può essere Assolutamente Una macchina Da ignorare Beh allora Non è così lontano Però bisogna vedere Poi cosa comporta Tutto ciao Una volta trovato Vieni che ti prendo Vieni che ti prendo Tanto passerai In un punto Dove si può Neutralizzare Ok Vieni che neutralizzo Anche te Vieni qui Boom Nel muso Deragliato Missione è completata Un minuto preciso Signori Un minuto preciso Un minuto preciso